La villa comunale Margherita, già a Trieste di Catanzaro, fu completata tra il 1878 e il 1881, anno della visita della famiglia reale. Per le sue qualità paesaggistiche venne molto apprezzata dai viaggiatori stranieri, tra cui Norman Douglas. Al progetto contribuì l'ingegnere agronomo svizzero Enrico Fer, attivo in Calabria nella sistemazione anche di altri giardini. Gli spazi si arricchiscono di un considerevole numero di busti di personaggi illustri della città e della provincia, opera di qualificati scultori, fra cui Francesco e Vincenzo Ierace, e di arredi vari in terracotta e ghisa, alcuni dei quali commissionati addirittura a Milano e Parigi.